L'organizzazione impeccabile per questa dinese clubhouse che come abbiamo detto rappresenta un elemento di modernità nella società odinese calcio, una società che si sta aprendo al futuro? Il futuro è anche il golf, nel senso che è uno sport in espansione, credo anzi sia uno dei più belli sport del mondo e quindi speriamo che ci siano sempre più giocatori golfisti e anche calciatori golfisti nel senso che sicuramente potranno avvicinarsi mantenendo quell'elemento fondamentale che è stato per tutta la carriera presente e costante che è l'erba che per un calciatore penso sia importantissimo. Abbiamo visto irriducibile anche qualche buca, sei riuscito a farla insieme anche a Massimo De Luca? Sì, abbiamo fatto qualche buca per provare il campo perché meritava in condizioni ottime nonostante gli acquazzoni continui e ci torneremo sicuramente sperando in condizioni più clementi per gustarci questo che è un posto fantastico e spero anche il prossimo anno venga ripetuta all'iniziativa e aderirò molto volentieri. Ne approfitto anche per chiedere qualcosa sull'attualità dell'Udinese che ha inaugurato questi nuovi settori dello stadio, un gioiello proprio anche lì dà l'impressione di entrare nel futuro. Sì, è uno step importante per le società di calcio, abbiamo visto quanto lo Juventus Stadium sia stato importante anche per la Juventus e credo possa esserlo per l'Udinese ma per anche tutte le squadre che andranno e si accingeranno a farlo. È uno stadio che può essere vissuto 365 giorni l'anno e credo dia forza e linfa alla società e quindi l'Udinese in questo è stata lungimirante, è già proiettata verso il futuro perché gli introiti vengono non soltanto dal campo, dagli scambi di giocatori ma anche da altre attività collaterali. Qual è stata la prima impressione di questa Udinese di Colantuono secondo Paramatti? Ma al solito come tutti gli anni l'Udinese riesce a fare una squadra equilibrata, una squadra di prospettiva, una squadra con giocatori interessanti e anche quest'anno credo possa ripetere quello che ha fatto negli ultimi anni, insomma nell'ultimo decennio, quindi le prospettive sono anche per quest'anno molto interessanti. Grazie.